Al via il piano straordinario di controlli sull'intero territorio Pentro da parte dei carabinieri del comando provinciale di Isernia in vista delle festività. L'operazione Natale Sicuro avrà l'obiettivo di contrastare in modo particolare i reati di maggiore allarme sociale quali furti, rapine, truffe e spaccio di droga e vedrà impegnate tutte le stazioni dislocate sul territorio che agiranno in sinergia con le unità di pronto intervento dei nuclei operativi e radiomobile dipendenti dalle compagnie di Isernia, Venafro e Agnone. Saranno inoltre impiegate pattuglie del nucleo investigativo che in Borghese e a bordo di Autocivetta vigileranno in particolare su abitazioni isolate, attività commerciali, uffici postali e istituti bancari. Le attività saranno anche concentrate per prevenire ed eventualmente reprimere reati in materia ambientale, contro la salute pubblica e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Insomma scattano controlli a 360 gradi da parte dei militari al fine di garantire il massimo della sicurezza durante le festività natalizie.